La vittoria di Zingaretti alle primarie nazionali del PD remescola le carte anche in Abruzzo e Andrea Catena, uno degli eletti all'Assemblea nazionale coordinatore della mozione Zingaretti, ha sottolineato la grande partecipazione nella nostra regione, 30.000 persone circa al voto. Zingaretti si è imposto in Abruzzo con quasi il 64% dei consensi. Sì, c'è stato un movimento di opinione dal basso, la lista Piazza Grande che ha sostenuto Zingaretti è una lista fatta prevalentemente di militanti, di volontari, con poca presenza di rappresentanti istituzionali. Quindi c'è stato sicuramente anche un mandato forte a cambiare, a cambiare a livello nazionale, a cambiare anche in Abruzzo per ricostruire un PD nuovo, per ricostruire un centro sinistra unitario. Insomma, si è adottato un po' il modello Legnini delle scorse elezioni regionali. Certamente, il modello è quello chiamato modello Legnini, che poi è stato anche il modello in Sardegna, di una coalizione ampia, questa coalizione ampia civica di centro-sinistra va replicata anche a Pescara, a Montesilvano. Bisogna cambiare ovviamente come PD anche in Abruzzo. Intanto il primo marzo è scaduto il mandato del segretario reggente di Sabatino. Chiediamo che si faccia al più presto il congresso regionale, che si vada nei livelli provinciali ad una gestione unitaria del partito. C'è un mandato chiaro dei nostri elettori, del nostro popolo a cambiare. Qualcuno ha detto che è stato un voto contro. Io parlerei di un voto per. Certamente è un voto, ripeto, per cambiare, è un voto per ridare una speranza, un'alternativa, perché contro questa destra che c'è in Abruzzo e contro il governo giallo-verde c'è bisogno di un PD nuovo, ma ripeto, è appunto anche un voto per cambiare, quindi per una discontinuità. Il segnale è stato chiaro, è stato chiaro a Pescara città, è stato chiaro in altre realtà. Per concludere si voterà in Abruzzo a maggio in comuni importanti, quali ad esempio Pescara, ma chi sta lì decidere in questi casi? Noi chiediamo che anche su queste vicende ci sia una gestione unitaria. C'è una nuova maggioranza politica che è quella che è uscita dal congresso nazionale, anche qui in Abruzzo questa maggioranza politica deve poter dire la sua. Senza arroganza, ripeto, confrontandosi, però bisogna in qualche modo prendere atto anche su queste vicende che esiste un'altra maggioranza politica e quindi bisogna andare a gestioni condivise anche nella scelta dei candidati a sindaco e delle coalizioni.